Un viaggio alla ricerca delle proprie origini a Castelnuovo di Conza, nel comune dell'Alta Valle del Sele, grazie all'iniziativa di Italy Routing Consulting, che ha visto il comune di Castelnuovo di Conza ospitare la signora regina Maura Berardinelli, di origine italiana, accompagnata da suo marito Ronaldo. La famiglia Berardinelli emigrò nel 1800 da Castelnuovo di Conza e lo fece Felice Berardinelli, nonno della signora regina Maura. Felice Berardinelli, che viveva in povertà qui a Castelnuovo di Conza, emigrò in Brasile, in particolare a Rio de Janeiro, dove fece fortuna. Trovò un lavoro, diede al mondo dei figli. Uno dei figli era Rodolfo Berardinelli, papà della signora regina Maura Berardinelli. E proprio Rodolfo Berardinelli fece carriera a Rio de Janeiro nel settore delle assicurazioni, diventando uno dei più importanti direttori di compagnie assicurative italo-brasiliane in Brasile. Regina Maura Berardinelli inizia a studiare la danza classica, si dedica al balletto classico sin dall'età di sette anni e una volta maggiorenne diventa la prima ballerina del teatro municipale di Rio de Janeiro, il più importante teatro di ballo classico brasiliano. E l'amore per la danza, ma anche l'attaccamento alla sua famiglia, ha portato la signora regina Maura Berardinelli, che oggi ha 80 anni, non solo a continuare ancora l'attività di danza, di coreografia, di insegnarla agli altri, ma anche a proseguire e a continuare quel legame importante che univa la sua famiglia alla città di Castelnuovo di Conza, nell'Alta Valle del Sele. La signora regina Maura Berardinelli è stata accolta dal primo cittadino, il sindaco Francesco Di Geronimo, dal vice sindaco Norato Frangione, dall'amministrazione comunale all'interno di Palazzo di Città. La visita è proseguita all'interno del Parco della Memoria, un luogo storico simbolo per la città di Castelnuovo di Conza, un luogo che rappresenta il passato, il presente, ma anche il futuro dei castelnovesi in Italia e nel mondo. Oggi è la festa di Castelnuovo di Conza, oggi è Santa Maria e quindi le feste di settembre si concludono oggi con questa bella iniziativa e siamo grati a questi nostri figli, figli del comune, figli di Castelnuovo di Conza che sentono il bisogno di tornare qui e noi al comune li accogliamo con ogni onore, con affetto, con rispetto, con gratitudine per quello che loro hanno fatto e l'hanno fatto anche per il paese perché chi sta fuori non dimentica mai Castelnuovo di Conza. Orgogliosamente siamo contenti di questo ritorno dei nostri concittadini all'estero perché ce ne sono stati tanti emigrati che poi magari non potendo ritornare alle loro radici e gli eredi vogliono con forza riscoprire le loro radici e per noi questo è molto bello.